malvezi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene la follia ecologista sulle vetture farà strage di imprese e lavoratori e chi sostiene che l'atteggiamento della meloni nei confronti della decisione di vietare la vendita di vetture con motore termico si è esagerata non ha la più pallida idea di quello che succederà al comparto automotive delle competenze adesso associato quello che è certo ma che non frega al né al governo meloni né ai mercenari di questa crociata ambientalista è che l'elettrificazione stroncherà più di duemila aziende produttrici di componenti per automobili con motori endotermici che danno lavoro statisticamente a 160.000 persone e che nel 2022 hanno generato un fatturato prossimo ai 45 miliardi e saranno costrette a fabbricare dei ricambi sprecando così delle risorse in un settore che allora sarà già morente insomma non sappiamo veramente se sia più stupido illudersi che tutte le persone che perderanno il lavoro possano trovarne altro in aziende che si occuperanno di trasformare la rete elettrica nazionale in qualcosa di compatibile con la nuova mobilità oppure pensare di recuperare 25 anni di sviluppo cinese in soli 12 anni la verità è che ci preoccupiamo di creare lavoro per i figli e per i nipoti ma non ci si preoccupa più di salvare quello dei genitori questa è la situazione paradossale che si sta venendo a creare per approcci ideologici di tipo green di economia dirigista perché questa è la verità non c'è un vero dibattito c'è semplicemente dei diktat europei ai quali i vari governi italiani ormai si adeguano si genuflettono da anni quando io vi dissi col governo meloni non sarebbe cambiato nulla se avesse vinto avevo ragione anche su questa partita cioè non abbiamo più una politica nazionale non abbiamo più una strategia nazionale non abbiamo più una libertà nazionale vedete l'altro giorno ascoltavo la relazione di un collega dell'università internazionale per la pace dell'onu che diceva in materia di esgi che significa environment social and governance il postulato fondamentale in materia di environment cioè ambiente ebbene la posizione onu diciamo quella più acclarata a livello planetario è tutela dell'ambiente significa consumare le risorse in modo tale da garantire la vita cioè come dire l'attività economica di questa generazione senza compromettere quelle future questo è facendo rovescio stiamo distruggendo la vita economica di tante imprese senza garantire che ci sia un futuro a quelle dei figli e nipoti è una scelta ideologica io ve la segnalo così come essa è buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene